buongiorno a tutti rieccoci sul mio canale oggi è il 3 marzo e questo video lo vedrete probabilmente il 4 di marzo lunedì è tempo di trapianti cominciano a essere grandicelle le piantine come vi avevo detto l'altra volta quelle singole lascerò ma ho visto che hanno attecchito praticamente tutte io parlo dei pomodori soprattutto parliamo di un 10 15 centimetri cominciano a stare un po stretti nell'alveolo quindi li trapiantiamo e vi faccio vedere anche brevemente il trapianto della lattuga farò un trapianto veramente molto grossolano nel senso che il panetto di terra lo dividerò in tre quattro parti e metterò in un vasetto e quindi non appena poi avranno ripreso vigore e si saranno grandite le foglie e metterò in pieno campo questo lavoro lo possiamo già fare vediamo tutto dopo la sigla e vediamo il primo utilizzo del lumicon flow che sarebbe il lumus e lombrico liquido io l'ho già utilizzato ma non ve l'ho fatto vedere e adesso lo usiamo insieme in fase di trapianto ci vediamo dopo la sigla eccoci sul canale bentornati a tutti sono orso cominciamo a vedere qualcosa finalmente e anche i semi che erano un pochino indietro stanno venendo fuori stanno germinando in questo video vi faccio vedere brevemente ma proprio pochi minuti il trapianto sia della lattuga che di alcuni pomodori per il trapianto ho utilizzato un terriccio universale della terflor l'ho preso in vivaio 9 euro 70 litri costa parecchio però è un terriccio che adesso vi faccio vedere molto molto rassinato questo mi permette di continuare a coltivare in casa perché per un altro mese circa le avrò in casa queste qui senza avere moscerini e il vantaggio di avere terriccio di buona qualità allora a questo punto del video un trapianto lo farò anche con l'aurum che è il terriccio universale di biotica io quando vi cito in questi video biotica l'humus e l'ombrico e quant'altro ve lo metto poi in insomma impressione che è un video realizzato in collaborazione con biotica nel senso che mi ha gentilmente fornito i prodotti principali insomma l'humus e l'ombrico vedrete un video riassuntivo di tutti i prodotti tra pochissimi giorni in settimana e vedrete poi la presentazione di tutti i prodotti se poi vi interessano questi prodotti qui vi lascio un coupon del 10 per cento solo per voi non ci guadagno niente non è un link affiliato quindi se vi interessa prima di iniziare volevo soltanto farvi vedere i progressi di questo semenzaio qua questo è stato fatto tutto con humus di lombrico terriccio universale aulum che sarebbe sempre il terriccio con dentro l'humus l'ombrico che viene venduto già così e dove ho mischiato l'humus e l'ombrico ho messo poi il vigor plant che il terriccio da semina quello che utilizzo io ecco guardate praticamente hanno germinato praticamente tutte le piantine queste centrali sono le melanzane le vedete un po asciutte perché ancora non le ho bagnate oggi le bagnate ieri sera e dopo vedremo insieme la fase di irrigazione vi faccio solo vedere velocemente come funziona però guardate sono praticamente tutti gli alveoli pieni forse ecco i primi due questi qua i peperoni che hanno un pochino rallentato ma poi gli altri sono venuti fuori e ci hanno messo un pochino di più ma alla fine sono venuti fuori anche loro allora cominciamo terriccio terflor e preparo già la dose del lumicum flow che sarebbe l'humus l'ombrico liquido per il trapianto per l'orto versare 100 grammi due tazzine da caffè diluiti in 300 millilitri di acqua per pianta in prossimità delle radici quindi io cosa farò adesso preparo una miscela di acqua e umi con flow dopo che ho fatto il trapianto bagno direttamente con quello e sono a posto per un po dal momento che farò tre vasetti 300 grammi l'uno più o meno diamo a occhio farò una bottiglia di circa 900 grammi quindi 900 millilitri più o meno di acqua e aggiungerò 6 bicchierini di humus l'ombrico liquido allora non è comodissimo da versare ve lo dico subito perché se dobbiamo fare la dose con i bicchierini qua ci vorrebbe magari un qualcosa per non farlo versare a terra comunque faccio piano piano cominciamo guardate che meraviglia 1 2 3 4 5 qui in un pannezzo di terra abbiamo già 5 piantine ho capito che dovrò regalarle allora ne metto due per ogni vasetto il motivo è semplice ce ne andrebbe uno se avete spazio mettete solo una piantina dentro perché crescerà benissimo io spazio non ne ho più perché devo anche pensare alle semine che dovrò fare nelle prossime settimane quindi visto che dovrò continuare a tenere le piantine sotto la luce e lo spazio è quello che è per forza di cose devo metterle insieme almeno due alla volta piano 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 si divide il panetto di terra ci sarà comunque lo stress da trapianto e ve lo dico le più piccole potrebbero anche non farcela per loro una sofferenza mica da ridere queste due piccoline le lascio insieme ora per quanto riguarda i pomodori solo per i pomodori questo discorso vale nella fase di trapianto sia qui nel vasetto che in pieno campo possiamo andare più giù e possiamo metterlo un pochino di più sottoterra perché il pomodoro ha la capacità di far crescere delle radici anche dal tronco e questo serve moltissimo qui fino a più grande il vasetto ne metto tre ma come vi dicevo se riuscite a metterne soltanto una per ogni vaso è la cosa migliore bagno con quello che ho fatto prima è una sostanza color caffè latte la prima è una fiata la do abbondante non sono 300 grammi e pianta ne metto un pochino di meno quindi riesco a fare qualche vasetto in più ecco guardate che belle che sono un pochino in questa fase col terriccio nuovo di qualità e con l'aggiunta di humus il lombrico anche se in forma liquida vi ricordo che un ammendante non è un concime quindi nutre il terreno che a sua volta nutre le piante se dovessi accorgermi che qualche foglia comincia a diventare gialla una volta che si sono riprese dal trapianto quello il segnale che magari manca qualche sostanza nutritiva qualche microelemento allora quel punto un po di sola bio lo ce lo metto ma in questa fase di sicuro non metto più niente due piantine le metto direttamente nell'aurum ecco questo è l'aurum come vedrete nel video vi dicevo tra qualche giorno dentro ha già la pietra pomice e la perlite per dare ossigeno alle radici non è molto setacciato come può essere il terriccio che ho fatto vedere prima ma va bene così perché ve ne parlo a ragion veduta perché le ultime file di questo semenzaio sono tutti fatti direttamente con l'aurum e hanno germinato tutte le piantine ecco perché è sì un terriccio universale ma sto valutando insomma che va bene anche per la semina in questo terriccio qui darò soltanto acqua è inutile dare altro humus in lombrico non lo voglio sprecare è già qua dentro è già miscelato e contiene tutte le sostanze nutritive che servono le piante per circa quattro settimane quindi è vero costa un pochino in più magari del terriccio quello universale però alla fine si risparmi sui concimi forse un po la mano è per il discorso che ho detto prima ce ne andrebbe una e metto tre d'altronde se non lo spazio vedrò se poi soffriranno tra due tre settimane le trapianterò nuovamente cosa che sarebbe da evitare perché bene non li fa questa è acqua metto il segno a posto giusto per ricordarmi che l'ho fatto con l'aurum rispetto gli altri vi faccio vedere soltanto la lattuga e poi chiudiamo ecco vedete non sto a togliere ogni singola piantina diventa rimatto è la divido in due massimo tre parti ecco con la lattuga perdonatemi ma io humus non mi spreco quindi darò l'acqua semplicemente ecco questo non è un bel vasetto ma ce lo facciamo andare bene lo stesso saranno mogie per qualche giorno ma poi si riprenderanno benissimo ok vi aggiorno soltanto su qualche altro particolare del mio semenzaio a distanza di una settimana dall'ultimo video stanno cominciando a emergere anche le prime angurie guardate qua abbiamo la prima e al momento eccola qui qui ce n'è un'altra piccolina anche ti libero ecco qua ah volevo solo farvi vedere la fase di irrigazione semplicemente acqua tengo solo umido il terriccio e basta lì dove non c'è bisogno non lo do perché sarebbe uno spreco vi faccio vedere torno qui sul vassoio dei pomodori che ho trapiantato sono appena appena umidi un po glielo do ma come vedete appena appena qualche goccia tenete conto questa operazione la faccio tutti i giorni e ora come ora in questa fase io consumo circa tre litri di acqua al giorno un altro appena appena vedete la pioggia bene per questa settimana il semenzaio a questo lo avete visto non c'è altro da farvi vedere quindi evito di tediarvi ulteriormente se avete domande fatemene qui nei commenti io cerco di rispondere a tutti adesso comincerà poi il lavoro appunto dei trapianti grazie per essere stati con me lasciate un like iscrivetevi condividete il video con i vostri amici se vi fa piacere chiedetemi pure se avete bisogno io quello che so rispondo quello faccio con piacere vi auguro una buona giornata